A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per la pagina sportiva del TG Noi. Apriamo dunque, torniamo a parlare dopo qualche giorno della Lucchese perché è quella che si è aperta, è una settimana molto importante per i colori rossoneri, vediamo in particolare per quale motivo. Volando sopra lo stadio Porta Elisa, nel silenzio di un periodo decisivo per il futuro della Lucchese, da quassù tutto tace ma anche laggiù ormai da oltre un mese, cioè da quando è finito il campionato, parole tante ma fatti pochi. La città e tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Pantera temono di vivere un'estate calda, troppo calda, che sarebbe l'ennesima di questi angoscianti anni 2000. Da una parte infatti si continua a parlare, finora soltanto parole e un incontro, peraltro confermato anche dal presidente Vichi di pochi giorni fa, sulle trattative in fase più o meno avanzata per la cessione della società, oppure l'ingresso di nuovi soci o di sponsor che possano dare un robusto contributo, incombe l'iscrizione con relativa fideiussione al prossimo campionato. La terza via è quella di andare avanti con l'attuale compagine societaria, che però sappiamo ha bisogno di sostegno economico e una stagione in C costa e non poco. Chiaro che in questi casi la speranza sarebbe quella di affidarsi a personaggi con portafogli gonfio e voglia di investire, ma è ancora roba di questi tempi e d'altronde esiste anche il timore di mettere la lucchese nelle mani sbagliate, che stavolta sarebbe troppo. E poi le vicende tecniche. Ci sarebbe da allestire la squadra del prossimo campionato. Pagliuca è confermato con tutto lo staff e sul piano numerico della Rosa non siamo allo zero assoluto di un anno fa. Il direttore sportivo De Oma ha lavorato sodo anche durante le vacanze siciliane, tessendo con pazienza certosina la sua ragnatela. Proverà, ma non è facile, a tenere un elemento del calibro di Belloni, mentre Minala è già volato in Portogallo. Qualcuno, come Ben Saia, rientrerà alla base? Si cercherà di rilanciarlo? Chissà. Tanti gli interrogativi sul piatto, mentre fra un mese circa comincerà la preparazione con il ritiro estivo. Al vaglio le candidature del Ciocco e di Fiumalbo, oppure Saltocchio, se per quella data l'impianto sarà pronto. Passiamo al basket. Bama-Fucecchio dunque a gara 4, giovedì sera al Palabrigia alle ore 21. Il Bama ha il match ball per conquistare la C-Gold, mentre il Fucecchio ha la possibilità, vincendo, di ritornare tra le muramiche, portando tutto alla bella. Impossibile fare un pronostico. Le prime gare sono state indirizzate entrambe negli ultimi minuti. La prima è in favore di Fucecchio, la seconda per Altopascia e la terza addirittura ci è voluto un tempo supplementare. L'unica cosa certa è che ci sarà ancora grande spettacolo al Palabrigia. Nessuno, tra l'altro, dimentica in casa Bama che solo un anno fa di questi tempi il Bama rischiava seriamente la Serie D. Quindi comunque vada a finire grandissima stagione per la squadra del presidente Sergio Guidi. E sono in dirittura d'arrivo tre colpi che vanno a ridisegnare il pacchetto delle straniere del basket Lemura. Un gradito ritorno, l'olandese Kourtney Treffers, ruolo pivò che di fatto prende il posto di Agneska Kazmarchik. E vediamo, la Treffers ha giocato a Lucca già nella stagione 2018-2019. È fatta anche per la prima delle due americane, la play Kay Morrison dalla Georgia University. Non sarà semplice rimpiazzare, non far rimpiangere elementi del calibro della Dietrich e della UIS, ma sicuramente la Morrison e l'altra americana che dovrà arrivare ci proveranno. Da aggiungere invece che la quarta straniera sarà la finlandese Elmi Tulonen, proveniente dall'esperienza col basket carugate in A2. Campionati italiani di terza categoria di tennis tavolo con grandi soddisfazioni per il tennis tavolo Lucca, al Palace Sport Play Hall di Riccione. La coppia Vasta-Cerquellini, reduci dalla promozione in B1, hanno infatti conquistato una splendida medaglia d'oro battendo in finale 3-0 la coppia d'Alessandris-Devito. Per la squadra rossonera, inoltre arrivata anche, tanto qui vediamo appunto la coppia Vasta-Cerquellini. Per la squadra rossonera, medaglia di bronzo, grazie al giovane Oliver Mankowski, che dopo la sconfitta, che è stato sconfitto in semifinale, dal bravo Simon, che poi ha vinto il titolo tricolore. Grande soddisfazione per l'allenatore Nicola Di Fiore, per il presidente Claudio Frediani, e entrambi erano presenti a Riccione. E chiudiamo col premio fedeltà allo sport, che è tornato dopo 4 anni con un grandissimo successo. È tornato e lo ha fatto in grande stile. Quattro anni dopo, Valternieri ha riproposto il premio fedeltà allo sport, manifestazione ammirata e invidiata un po' da tutti, e che in quasi un quarto di secolo ha portato a Lucca il meglio dello sport italiano e mondiale. Ancora una volta, per il decimo anno consecutivo, a fare da splendida cornice l'Hotel Country Club di Gragnano, personaggi di spicco dello sport nazionale, si sono alternati sul palco a ricevere la bellissima sfinge d'oro, coniata dall'artista lucchese Gianpaolo Bianchi. Ivano Fanini è da sempre uno dei soci sostenitori più forti e appassionati dell'evento. Niente, il premio fedeltà allo sport è 23 anni che il fondatore, il direttore, l'idiatore Valternieri, praticamente, che ha fondato questa manifestazione, è il 23esimo, ma credo che siano una trentina di manifestazioni, perché c'è stato degli anni che si faceva addirittura tre manifestazioni in un giorno. Il nome Fanini va subito con un palese silogismo al mondo del ciclismo, che l'ha fatta da padrone, tra i premiati Stefano Allocchio, direttore del Giro d'Italia, e il Diablo al secolo Claudio Chiappucci, indimenticabile guerriero delle strade, e lui, il due volte campione del mondo, Gianni Bugno, che con il solito aplomb inquadra il momento del nostro ciclismo. Italiani, italiani, è arrivato quarto Nibali, ha fatto un ottimo Giro d'Italia, l'Italia appena ben vede quattro nell'ultima settimana, quindi è stato un giro in crescendo per gli italiani, manca forse il sostituto di Nibali e di Pozzovio, che sicuramente ha fatto un ottimo Giro d'Italia anche lui. Ma non solo ciclismo, anche il calcio ha avuto spazio con Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter e della Nazionale. Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, impegnato fino a pochi minuti prima, con la firma del nuovo allenatore Paolo Zanetti, ed ancora la grande pallavolista Paola Cardullo, considerata una dei più grandi liberi di tutti i tempi. Nicola Larini, ex pilota di Formula 1 e della Ferrari, i riconoscimenti sono andati anche allo sport locale, soprattutto nel volley, con i presidenti Paolo Gradi e della Nottolini, eroi tocchini del Porcari e ammai l'avventuri, cresciuta proprio nelle fila della Nottoline da quattro anni in a uno. Sfinge d'oro inoltre il presidente del basket Lemura Rodolfo Cavallo, che da oltre un decennio tiene nel massimo campionato la squadra bianco-rossa, con la fantastica perla dello storico scudetto del 2017. Il premio fedeltà d'appuntamento al 2023, con l'obiettivo di arricchire un albo d'oro incredibile e unico. Chiudo ricordando lo speciale su Noi TV giovedì sera alle 21.15, dedicato proprio al premio fedeltà 2022. È davvero tutto per quanto riguarda l'edizione del TG Noi Sport, vi ringrazio per l'ascolto, dopo una breve pausa il TG prosegue con la terza ed ultima parte. Grazie per la visione!